Mamma mia! Lavoratore, si calmi! Lavoratore, cosa sta facendo la signorina in quel di Parigi? Un pesco! Bravo! Adesso affrontate anche voi un momento di burlesque, interpretatelo nella maniera più sexy possibile. Paolo, ma lo devo fare con lei o da solo? Da solo. Sarà abituato a farlo da solo, no? Su! Musica! Vabbè! Bravo! Meraviglioso! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Grazie a tutti! Grazie a tutti